Aspetta, i consigli non ve li do io, ve li darà il libro in generale perché davvero non voglio neanche spoilerarlo. Quello che mi è piaciuto del libro è che è fatto in tre parti. Mi sono svegliato con un grande dilemma la domenica mattina dove occorrono un lungo di due ore, poi ho allungato di 46 minuti e a parte il freddo e il coniglio che mi aspettava, avevo davvero diverse scelte a mia disposizione. Non voglio però parlarvi delle scarpe, altrimenti non ci fermiamo più e nemmeno della tecnologia, sebbene ieri fosse il Black Friday, che comunque avete davvero diverse opportunità per acquistare prodotti tecnologici, dicevo il podista distratto come me, in questo caso dal coniglio, che la domenica mattina vuole correre tra i 10 e i 12 chilometri, ha davvero tantissime scelte a disposizione. Appena sveglio la prima da affrontare è cosa mangiare prima dell'allenamento, come alimentarsi durante l'allenamento, ma soprattutto, e ricordiamoci che il nostro podista tornerà davvero affamato da queste due ore di corsa, cosa mangiare dopo l'allenamento. E in tal caso le scelte sono ancora davvero infinite, non ci starebbe male il coniglio e la cacciatora, ma non sono convinto di ricevere l'approvazione delle mie donne di casa. Tra l'altro, se siete interessati, assieme a Giulia e forse ad Andrea, se finisce la zona rossa, parleremo di queste nove ASICS che escono nei negozi il primo di dicembre. Per questo, ma non solo, vi consiglio di iscrivervi al canale e attivare le notifiche perché nei prossimi giorni ci saranno davvero ricensioni parecchio interessanti. Una seconda scelta era quella di un bel piatto di pasta al pesto o, perché no, un salmone con i broccoli. Tra l'altro, quanto formaggio mettere sulla pasta non era nemmeno così banale. Non c'è però il tempo per spiegarvi come sia andata a finire, ma non preoccupatevi, questo non è davvero importante perché, come ci racconta il nuovo libro Running Nutrition di Marco Perugini del progetto Invictus, quello che conta per il podistamatore non è cosa si fa a livello di acuto, cioè il giorno in cui si prende una decisione, ma soprattutto come si si comporta a livello cronico, cioè su un arco temporale sicuramente più elevato. Come sapete, so che qualcuno l'ha già comprato, almeno secondo i miei contatti di Instagram, poche settimane fa è uscito il libro di Marco, biologo nutrizionista e attivo contributore del progetto Invictus. Come già detto, il libro si intitola Running Nutrition e ha l'ambizione di essere il libro che fino ad oggi non c'era sulla nutrizione per la corsa e con la corsa. Certo è che leggerlo in un mese con tutti gli impegni che ho a disposizione, con oltre 400 pagine e 300 riferimenti bibliografici, con un audience variegata per chi vuole perdere peso, per chi vuole ottimizzare la prestazione e soprattutto per chi vuole conoscere qualcosa di più relativa all'alimentazione con la corsa. Se vi piace davvero capire le cose, questo è secondo me, per noi podisti e amatori, un libro assolutamente adatto da comprare in questi giorni di Black Friday. Sappiate che tornando all'esempio di prima del coniglio della pasta e del salmone, da un certo punto di vista alimentare è quasi rilevante cosa mangiare in acuto, cioè una sola volta, perché la sintesi del dottor Perugine è incredibilmente semplice. Create un gap calorico come se fosse un contabile e questa cosa vi permetterà nel tempo di raggiungere la felicità e, perché no, una diminuzione del vostro peso. Sappiate che esistono delle app per misurare in maniera precisa le calorie, sappiate anche però che queste misurazioni sono efficaci nel momento stesso in cui c'è costanza nell'utilizzo di queste app. E qui veniamo a Running Nutrition, il libro, come già dicevo prima, è un percorso che vi permette immediatamente di capire che se correte in pista per 400 metri, il vostro consumo calorico sarà solamente tra i 30 e le 40 calorie a seconda del vostro peso, quindi i giri ne dovete fare parecchi. Il percorso parte da chi è appena iniziato a correre, spiega come perdere peso correndo ma anche che allenamenti fare oltre alla corsa. C'è pure spazio per parlare di integrazione, dell'importanza di quello che si chiama Protein Sparing, che vi lascio però leggere nel libro e tra l'altro viene anche raccontato il famoso metodo Detox e viene criticato sotto alcuni punti di vista, metodo che è tanto in voga in questo periodo. Il percorso continua con la consapevolezza che se abbiamo iniziato a correre per dimagrire, nel futuro, con il tempo, cercheremo di dimagrire per correre e infine correre per vincere, e in questo caso, quando parliamo di correre per vincere, ovviamente intendiamo anche a livello metaforico perché comunque continuare a correre, essere sani, stare bene, è sicuramente già una vittoria. Nella parte finale vengono citati gli studi di Finei e contrapposto a quello di Muica e questo mi fa pensare, come avevo imparato alla Cornell University quando studiare negli Stati Uniti, che il 50% degli studi medici sono fondamentalmente corretti, il problema è sapere quali siano quelli giusti. Il percorso si conclude con la consapevolezza che questo libro vi farà imparare parecchie cose, soprattutto se siete un po', tra virgolette, a digiuno di conoscenze alimentari. Sappiate che se è vero che il suggerimento che ho sempre dato è quello che imparare è fondamentale, ma allo stesso tempo, dopo una lettura dettagliata, però il mio suggerimento fondamentale è quello di dire affidatevi comunque al nutrizionista se vorrete migliorare le vostre performance atletiche, anche perché il libro è sicuramente uno spunto, però un professionista vi potrà offrire qualcosa di più. Concludo dicendo che il libro mi è piaciuto molto, ne effettuerò una seconda lettura nelle prossime settimane, se siete interessati metto il link qua sotto per l'acquisto, ora lascio la parola al mio prodo amico Andrea, che è sicuramente ancora più entusiasta di me, soprattutto perché probabilmente ha letto meno libri relativi all'alimentazione, essendo anche più giovane. Vediamo cosa ci ha raccontato dal mio giardino di casa. Ciao Andrea, ciao Max, ma oggi ti mangerai il coniglio oppure la gallina? Dipende cosa mi dicono loro. Oggi recensiamo Running Nutrition, qual è la tua opinione? So che lo stai leggendo, l'hai quasi finito. Guarda, c'è una pubblicità su internet che capita qualche volta e dice sono veramente uforico, e questo è veramente il caso. Quando è uscito questo libro ho detto wow che figata, il project l'ho sempre seguito su Instagram, diciamo che sono diventati ormai la mia religione. Parlavano poco di running, parlavano tanto di palestra, di pesi e tutto quello che gli girava intorno. sbufalavano, sbugiardavano un sacco di bufale, mi hanno insegnato molto. E hanno fatto uscire questo libro, ho detto wow lo dobbiamo prendere, poi ce l'hanno spedito. E mi dice, sono stato contentissimo perché è davvero la Bibbia. Ho letto le prime due pagine, ho detto wow ma che figata, tanta roba che già comunque sapevo, comunque seguendoli su Instagram, ma tantissima roba che sono proprio delle perle. Poi si legge davvero bene, non stavo leggendo libri da un bel po' e questo qua me lo stavo divorando. Secondo te quali sono i tre principali consigli che potresti dare, basandoti anche su quello che hai letto, per chi intende migliorare dal punto di vista di alimentazione e il rapporto con l'alimentazione. Guarda, a dirne tre è troppo riduttivo secondo me. Cioè davvero siete, io vi dico innanzitutto di prendervelo perché se correte c'è dentro di tutto e di più. C'è dentro come reintegrare i liquidi, come reintegrare con carboidrati, proteine eccetera eccetera. E' davvero troppo riduttivo dire una cosa, è pieno di input e poi davvero, ed è pieno anche di debunker, vi farà crollare un sacco di certezze che avete avuto in questo periodo, quindi anche solamente i carboidrati che hanno più calorie alla sera per dire, o altre robe che quando uscivi a correre ti raccontavano. Questo libro qua davvero sbugiarda un sacco e dà molti spunti positivi diciamo. Per chi inizia a correre che consiglio daresti a livello di alimentazione? Aspetta, no, i consigli non ve li do io, ve li darò il libro in generale perché davvero non voglio neanche spoilerarlo. Quello che mi è piaciuto del libro è che è fatto in tre parti, una parte per chi corre tipo solo la domenica, una parte per gli amatori che è la gran parte di noi che corriamo e poi ci sono quella che possiamo dire gli amatori evoluti o i semiprofessionisti e i professionisti in sé. Preso il libro in mano ho detto ciò che parto dall'ultima parte è subito quella degli evoluti e invece no, dopo ho deciso di ripartire dall'inizio perché ho detto sicuramente ci sarà qualche passaggio che mi sfugge, così è stato, sto crescendo diciamo insieme al libro e mi sto prendendo anche delle piccole postille che magari mi erano sfuggite. Per dire c'è una roba simpatica proprio all'inizio, una dieta divisa solamente tra carboidrati, proteine e lipidi, molto semplice da seguire e piccole cose che secondo me per tanti sono scontate, per certi sono davvero un mondo nuovo, banalmente quante volte ci siamo detti corro ma non dimagrisco, qua ve lo spiego proprio papale papale, come fare e cosa state sbagliando perché poi alla fine lo dico sempre anche io, l'introdito calorico è quello che conta e tanti non se ne rendono conto. A chi consigli questo libro? Questo è un libro per tutti, l'hanno fatto apposta, Marco l'ha fatto apposta sia per chi ha appena iniziato a correre, sia per chi corre da un po' e sia per chi corre da tanto, sia per chi vuole migliorare, quindi davvero è un libro per tutti, anche per chi non corre, per assurdo chi fa altri sport, anche il ciclismo secondo me è qua dentro perché alla fine posso tirare fuori degli ottimi spunti anche per quello, per assurdo anche per chi non fa sport potrebbe essere un buon punto di partenza, anche solamente per sistemare l'alimentazione, davvero forse Marco qua ha fatto un passo sbagliato, ha fatto un libro e potrebbero, cioè io con questo libro qua davvero ho scoperto un sacco di cose e potrebbero andare più dal nutrizionista, quindi quasi si è fatto un autogol diciamo, perché comunque ha fatto la bibbia della nutrizione per noi runner. Ultima domanda, quali sono secondo te gli aspetti negativi del libro? Guarda forse, ma posso dirti così, non essendo laureato in biologia e compagnia ci sono dei pezzettini un po' difficili, però niente di che, lui li spiega anche molto base, diciamo che magari sono un po' io tarato e faccio un po' di fatica, però diciamo che ci sono dei pezzettini che sono, ma forse anche solamente per insegnarci qualcosa di più, anche a noi pratici, un pochino più di come funziona la nutrizione e tutto in giro. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Ciao Max, alla prossima. Dimenticavo di dirvi che io sono Massi, come al solito il coniglio è sparito quando non avevamo più bisogno, mi occupo di scarpe, recensioni di tecnologia e soprattutto di quello che gira intorno alla corsa, sperando che la zona rossa in Lombardia finisca davvero molto presto, nei prossimi giorni parleremo ancora di scarpe, nel frattempo se potete keep running, stay strong e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!